Figlia mia, eccomi a te per la consueta lezione. Fa attenzione a quanto ti dirò e non dimenticare le mie parole. Ti parlerò di me stesso, figlio di Dio fatto uomo per venire a salvarvi. Io esistevo da tutta l'eternità come il Padre e lo Spirito Santo, nella più perfetta armonia e nel più perfetto amore. Solo il desiderio di espandere il nostro amore ci portò a creare il mondo e a popolarlo di creature ragionevoli, che ricambiando il dono della vita, dono d'amore, ci avrebbero esse pure amato. In premio di ciò, dopo aver vissuto sulla terra, parlando con Dio e godendo dei suoi doni naturali e preternaturali, arricchiti dalla grazia che li rendeva santi e figli adottivi di Dio, sarebbero venuti a godere della sua vista e a vivere della sua vita in paradiso. Tu sai che il demonio tentò Eva, e che ella tentò l'uomo, Adamo, per cui miseramente caddero tutti e due assieme. Perdettero tutto ciò che essi avevano ricevuto per sé e per gli altri. Entrò nel mondo il peccato, la morte, la miseria, la fame, la discordia, le malattie, il dolore, e tutte quelle cose che tu stessa puoi constatare. Fu una rovina irreparabile. Ecco però che, davanti a tanto male, Dio sommò bene, si mosse a pietà e ciò che l'uomo non poteva fare pensò di fare lui stesso. Ti spiego. Col peccato l'uomo era diventato nemico di Dio. Aveva perso la grazia e il diritto al paradiso. Con le sole sue forze non avrebbe potuto rialzarsi da quel baratro in cui era caduto. Occorreva ancora la mano di Dio. Doveva Dio stesso riparare l'offesa che l'uomo aveva recato a lui con la disobbedienza. Ed ecco che il Padre mandò me nel mondo affinché, rivestendomi della vostra umana natura, potessi col sangue, con il sacrificio della mia vita e con i miei meriti, riparare l'offesa recata a Dio e riaprire le porte del cielo all'uomo che sarebbe stato irrimediabilmente perduto. Come la creazione era stata un dono d'amore, così la redenzione è stata un immenso dono d'amore. Tu sai come fu la mia vita mortale, a quali privazioni, a quali sofferenze io mi sottoposi. Quale morte incontrai? Tutto era ispirato da un amore infinito, dal desiderio di salvare tutti. Durante la mia vita mortale, con l'esempio e con la parola, ho insegnato come l'uomo deve pensare ed agire, come deve amare e perdonare, come vivere e morire per raggiungermi nella gloria. Il mio Vangelo, la buona novella, è il codice di tutti i tempi e per tutti gli uomini. È un messaggio d'amore per tutte le creature. Non trascurare la lettura del Vangelo. Ascoltalo quando viene annunciato, come fosse dalla mia viva voce, e traducilo in pratica. Sì un Vangelo vivente. Il mondo non crede alle parole, crede di più ai fatti. Agisci secondo i miei insegnamenti. Sono tanto semplici. Li puoi riassumere in questi due comandamenti. Ama Dio con tutta te stessa e ama il prossimo come te stessa, per amore di Dio. È come dire, poni Dio al centro della tua vita e fa al prossimo tutto ciò che vorresti fosse fatto a te. Io passai sulla terra facendo del bene. Fa tu pure così. Preparati un letto di morte ricco di opere buone che avrai accumulato, giorno per giorno. Nessuna giornata deve essere vuota di esse. Proponiti al mattino ciò che farai durante il giorno. Esaminati, alla sera, se hai fatto ciò che ti eri proposta. Diffondi il bene. Ama tutti e aiuta tutti. Se non possiedi ricchezze, dona le ricchezze spirituali che vengono dalla tua parola, dalla tua preghiera e dal tuo affetto. Se, esaminandoti alla sera, tu trovi di aver amato Dio e di aver fatto per il tuo prossimo tutto quel bene che potevi. Sta serena. All'ultimo dei tuoi tramonti. Incontrerai il mio volto sereno. Ed io stesso ti dirò. Vieni benedetta del Padre mio a godere il premio che Egli ti ha preparato. Un'ultima raccomandazione ti faccio. Fa con la dovuta attenzione quello che devi fare, per farlo nel migliore dei modi. Di me si è potuto dire che ogni cosa ho fatto bene. Fa anche tu così. Metti tutta la buona volontà nell'eseguire ogni opera, anche la più indifferente o la più piccola. Adoperati, specialmente nelle pratiche di pietà e nelle cose di Dio. Di compierle con amore e con attenzione, col solo pensiero di piacere a Dio. La perfezione cristiana è una meta che così si può raggiungere. E porta benefici anche nella vita umana. Un lavoro fatto bene, non dovrà essere rifatto e porterà vantaggi di tempo e soddisfazione anche materiale. Le tue preghiere e le tue opere buone fatte bene, saranno gradite al Padre e a me, e degne di essere esaudite. Meritevoli di premio eterno.